La piccola opera chiama e il paese risponde. Anche questa volta Traona ha dimostrato l'attaccamento a questa struttura gestita dalle sorelle minime e oblate che accoglie bambini e madri in difficoltà. Mi sento proprio di ringraziare il territorio perché è un'ennesima dimostrazione di solidarietà. Il territorio lo troviamo sempre vicino, sempre pronto ad aiutarci. Mi auguro che questo continui perché la piccola opera continuerà. Una bellissima giornata di sport, di divertimento dove abbiamo un po' di tutto, abbiamo la solidarietà, abbiamo la belle efficienza per la piccola opera, abbiamo l'arte, conosciamo la piccola opera e quindi l'importante realtà che c'è sul nostro territorio e la presenza di così tante persone, di così tante autorità credo che sia dimostrazione dell'affetto che tutti hanno per la piccola opera. Abbiamo l'onore di avere qui oggi l'assessore regionale Alessandra Locatelli che è assessore alla disabilità, alle pari opportunità e alla famiglia quindi che si trova un po' all'interno di quello che è il suo contesto, il contesto del suo assessorato. Con lei abbiamo visitato nel primo pomeriggio la piccola opera quindi abbiamo avuto modo di far conoscere anche a regione Lombardia quello che è la realtà e l'importanza di una realtà come la piccola opera di notevole importanza sul territorio provinciale ma direi anche oltre i confini provinciali. Sono arrivata questa mattina, in tarda mattinata ho potuto visitare la piccola opera che è una realtà straordinaria di questo territorio, devo dire veramente preziosa, in grado di aggregare associazioni, ente, istituzioni, persone, famiglie, bambini, ragazzi e lo vediamo qua in questo momento di oggi che è splendido ed è anche una realtà che ha bisogno di resistere, di essere più forte. So che ci si stanno lavorando, ci stanno lavorando i nostri sindaci, ci stanno lavorando le suore, le consorelle, ci stanno lavorando le diocesi, ci stanno lavorando tanti privati, è così che si fa perché abbiamo imparato nei momenti difficili, in questi ultimi mesi così difficili per via dell'emergenza sanitaria che solo insieme possiamo raggiungere obiettivi straordinari, quindi la strada è quella giusta. Dagli spalti gremiti di pubblico si è fatto il tifo prima per i ragazzi delle scuole di Traona e della Costiera dei Cech e poi per la partita del cuore tra Vecchie Glorie Traona & Friends e All Black Vecchie Glorie. A dirigere il match l'ex arbitro internazionale Fabio Baldas, in campo con gli All Black, tra gli altri Alberto Bebeto Bertolini, vice allenatore del Venezia e l'ex Juventino Roberto Galia. Tra i pali delle Vecchie Glorie di Traona, che ha schierato il sindaco Maurizio Papini, il parroco Don Paolo Bettonagli. Il risultato calcistico è stato di 2 a 1 per gli All Blacks.